Questa è una comunità di accoglienza, forse avete conto che c'è molta emozione qui in comunità, ci sono le mamme e i bambini su che a quest'ora stanno mangiando e alcuni di loro hanno ascoltato le prove, i bambini erano molto emozionati e quindi grazie per essere qui e speriamo di rivedervi anche in altre occasioni. Grazie mille. Io sono Francesca Montesi, sono segretario dell'Associazione per Mito Ogrus, voluta tre anni fa da Anna Gastel, sessiziente del Festival Mito, per portare musica classica di alta qualità, in realtà poco conosciute, anche per farle conoscere. Grazie. 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 Grazie.